Io andavo un po' a campanella, la campanella era il nostro orologio. Sono una campanella da mangiare, sono una campanella a scuola, campanella a cena, campanella a letto, capite? E praticamente i primi tempi che sono usciti dal Correggio, aspetta questa campanella. Fuori c'era una miseria che non te la dico, la miseria nera. Qua dentro eravamo signori.